La provincia rimane l'ente che in questo momento è assolutamente riconosciuto come uno dell'ente amministrativo di coordinamento sul nostro territorio. Quello che la legge individua come ente di area vasta noi già lo facciamo, siamo un punto di riferimento dei nostri comuni, siamo un punto di riferimento delle associazioni che lavorano sia a più livelli, sia a essere datoriali, di volontariato, sindacali, nell'ambito dell'azione amministrativa quotidiana e abbiamo fatto di necessità virtù, cioè in una situazione economica piuttosto difficile come quella dell'intero paese di cui ovviamente anche la provincia di Novara non è esente, il lavoro certosino, quotidiano, di buona amministrazione ha portato al contenimento dei nostri costi, quindi la possibilità di approvare un bilancio solo dopo Torino, Torino l'ho approvato mi sembra l'altro ieri, noi lunedì e questo ci consente di essere sicuramente fra le province più virtuose a livello nazionale. Da toccanto abbiamo dato anche un segnale politico importante perché noi amministratori ci siamo anche ridotti volontariamente lo stipendio di 15% che sommato al 10% che lo Stato ci aveva imposto come riduzione negli anni scorsi abbiamo una riduzione del 25%. Speriamo una cosa, essendo il nostro stipendio molto più contenuto ad esempio di quello dei parlamentari che questo elemento possa essere seguito anche dal governo, i ministri e soprattutto dalla Camere e Senato con rispetto al guadagno che hanno i parlamentari. I gruppi consigliari hanno avuto una bella sforbiciata perché anche loro sono stati toccati dalla spending review come viene chiamata a livello nazionale e non hanno più il danaro che veniva dato anche se era di poche migliaia di euro negli anni precedenti. Non abbiamo invece voluto toccare i consiglieri provinciali perché già hanno un gettone talmente esiguo che basta malapena per la benzina per raggiungere poi il posto in cui si fa il Consiglio quindi Novara quindi quello sono stati esentati ma il segnale politico della Giunta, del Presidente, del Presidente del Consiglio e dei dirigenti che si sono ridotti anche loro lo stipendio riteniamo che sia un segnale importante. Sì, siamo arrivati a metà del pareggio di bilancio 2008 che era da 104 milioni e nella differenza tra 104 milioni e 53 milioni sta tutto quello che è successo in questi cinque anni. Sono passati infatti solo cinque anni è cambiato il mondo, sta ancora cambiando. La provincia di Novara riesce comunque a pareggiare questo bilancio perché già per tempo, già tra 2009 e 2010 appena insediata l'amministrazione Sozzani ha posto in atto tutta una serie di misure che servivano a ridurre quella che era la spesa corrente posto il fatto che in ogni caso la provincia di Novara non aveva sacche di inefficienza o di sprechi come comunemente magari si legge riguardo le amministrazioni provinciali in genere. La provincia di Novara è sempre stata un'amministrazione storicamente efficiente comunque sia dal 2009 al 2010 abbiamo veramente tagliato in modo importante e organizzato anche tutta la macchina amministrativa a parte prima di tutto il non reintegro dei pensionamenti quindi un alleggerimento strutturale, una riorganizzazione. Avevamo già comunque fatto un piano di dismissione sia delle macchine di servizio sia di tutte anche quelle attrezzature che erano in uso proprio per cercare di snellire il più possibile la macchina e avremmo voluto utilizzare quelle economie per maggiori investimenti sul territorio e investire in servizi e purtroppo quelle economie in questo momento ci servono per far pareggiare questo bilancio. Ciò nonostante abbiamo comunque ricavato delle risorse economie di mutui anche per oltre 2 milioni di euro per fare degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade è chiaro abbiamo cercato di fare quello che potevamo con le risorse che abbiamo a disposizione perché oltretutto a parte averci azzerato il trasferimento lo Stato si prende anche circa 3 milioni di euro dell'RC Auto che è una delle pochissime entrate dirette che ormai erano rimaste nella provincia quindi dobbiamo fare anche gli esattori per conto dello Stato e effettivamente questo è un aggravio in più non tanto per la provincia di Novara ma per tutti i cittadini noveresi perché si vedono un pochino deperdati da una propria risorsa che serviva per la manutenzione delle strade e delle scuole per andare a rimpinguare il bilancio dello Stato sicuramente cerchiamo di essere ottimisti tra l'altro in effetti non è ancora stato pubblicato sul sito del Ministero l'entità reale dei tagli sono state fatte delle ipotesi ovviamente ragionate con altre amministrazioni provinciali è chiaro tutto quello che può arrivare in più sarà ben accetto e sicuramente ci permetterà di andare a lavorare sul territorio ovviamente noi abbiamo cercato di guardare anche quello che è sicuro quello che non è sicuro purtroppo non possiamo calcolarlo e speriamo di avere buone notizie nel corso dell'anno